Già nel 2016 l'onorevole Sandra Savino di Forza Italia aveva lanciato la proposta al governo in carica, con Matteo Renzi, presidente del Consiglio, di trasferire la sede della BERS, la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, da Londra, sua sede attuale, a Trieste, puntando all'area del Porto Vecchio come sito ideale. Abbiamo l'offshore in Porto Vecchio, abbiamo dei validissimi centri di ricerca, siamo un porto che è in costante sviluppo e quindi può competere, può concorrere, può essere strumentale a questo nuovo insediamento, quindi ci sono elementi di vario genere che possono tutti insieme veramente rideterminare lo sviluppo di questa città. L'interrogazione parlamentare che però non ebbe successo, trovando come risposta che al momento non era in previsione un'attività di quel tipo, visto che la Brexit era agli inizi. Dal momento in cui la Gran Bretagna si avvicina all'uscita dell'Unione Europea, l'argomento torna ad attualità. Da un lato il manager internazionale Giuseppe Razza ha rilanciato la proposta anche attraverso i nostri microfoni, dall'altro proprio Sandra Savino torna ad avvalorare la grossa opportunità che potrebbe interessare Trieste. Evidentemente è un'operazione se vogliamo da una parte semplice e forse da una parte anche complicata, però c'è la necessità di trovare una trasversalità politica complessiva sia sul territorio cittadino che quello regionale, piuttosto che quello statale. Questa è un'occasione non ghiota di più affinché Trieste possa, anche collocata geograficamente nel cuore dell'Europa, può in questo modo riprendere l'economia e riprendere quel valore che in questo momento probabilmente è anche sottostimato e sottovalutato da diversi governi che ci hanno condotto fino a qui. Grazie a tutti.